Prosegue il momento positivo dell'AMBC Servizi che con la vittoria in trasferta a Borgomanero allunga 4 la striscia positiva a cavallo della fine della prima fase e l'inizio della seconda. I ragazzi di coach evangelisti privi del capitano Provenzal partono subito con la spinta giusta dopo il primo canestro segnato dalla squadra di casa con Ferrari. Piazzano un 15-0 di parziale che indirizza la partita a favore del SBA. Con il passare dei minuti Borgomanero reagisce accorciando alla prima sirena a meno 10, poi nel secondo quarto la gara si fa più equilibrata. Le squadre vanno negli spogliatoi con gli amaranto avanti 53-45. Il momento migliore dell'AMBC Servizi arriva a rientro in campo quando Arezzo gioca fluidamente in attacco. Peluchini si sblocca e segna tre triple consecutive che rilanciano la squadra di coach evangelisti a più 15. Borgomanero prova a reagire ma fine terzo quarto il punteggio premia sempre la SBA. La gara sembra quindi incanalarsi verso un finale di semplice gestione per la SBA che invece subisce il recupero della squadra di casa. Borgomanero rimonta fino al meno 4. A questo punto prima un piazzato di Jankovic, poi una tripla di toglia danno la spallata definitiva a favore dell'AMBC Servizi che chiude la partita sul 96-86 conquistando la seconda vittoria in altre tante uscite nella seconda fase. Domenica prossima al Palace Portestra arriverà Gallarate, formazione che ha battuto in casa il Quarrate che è arrivata al quinto posto nella prima fase solamente per differenza di Canesseri. Sarà dunque una sfida per capire ancora di più la crescita dell'AMBC Servizi di Coach Evangelisti in questa fase di stagione.